Si è conclusa a Capovaticano la terza edizione di estate a Casa Berto, rassegna culturale ideata da Antonia Berto, figlia dello scrittore veneto che qui vuole fare casa, innamorato delle bellezze del territorio al punto da scegliere di essere qui seppellito. Una settimana intensa di incontri, confronti, letture, alla presenza di intellettuali apprezzati ed ascoltati. Tra loro anche Antonio Padellaro, giornalista, editore e saggista, fondatore e direttore del Fatto Quotidiano, giornale per il quale resta ancora editorialista. L'esperienza di Padellaro, che è stato anche direttore dell'unità e responsabile della redazione romana del Corriere della Sera, è tale da renderlo un analista attento della realtà sociopolitica. Anche per questo abbiamo colto l'occasione, incontrandolo, di conoscere il suo pensiero riguardo anche la nostra realtà locale. Gli ultimi dati danno una crescita e particolarmente al sud, qui siamo in Calabria e riflettiamo su questo, ma cosa significa in realtà tutto ciò? Diciamo che le previsioni sul PIL sono risultate più timide di quello che poi è nella realtà, quindi è possibile che l'Italia risenta di una modesta ripresa e che questa modesta ripresa cominci anche a toccare quelle regioni che storicamente sono sempre state un po' emarginate. Non è che la situazione della Calabria o della Campania o della Basilicata o della Sardegna cambierà da un giorno all'altro, però che ci sia un segno più invece che un segno meno, diciamo che di buona spiccia. Calabria significa anche una grande contraddizione, regione a vocazione turistica, ma oggi è una regione che deve affrontare il flusso dei migranti. Vedo che la Calabria non fa tante storie, nel senso che a differenza di regioni del nord, di cui non facciamo il nome, che ricevono molti meno immigrati rispetto alla Calabria e alla Sicilia, ho l'impressione che forse i calabresi come i meridionali abituati ad avere problemi simili a quelli degli immigrati, tutto sommato, sia pure anche con delle proteste legittime, accettano di soccorrere e accettano di aiutare per quello che si può queste persone. È evidente che però non è una situazione che può durare a lungo e abbiamo visto che il governo italiano sta cercando adesso con questa operazione Libia di frenare, vedremo se ci riuscirà questo flusso di immigrazione clandestina che sta diventando di proporzioni in acce.